Ciao a tutti ragazzi, io sono Loki e ci siamo tornati in una nuova puntata di Super Dungeon Il secondo video su Minecraft su questo canale E come sapete la volta scorsa abbiamo sbloccato la classe Mastro di Pozioni Quindi un mago diciamo così Quindi direi di metterci il nostro caro mantello che abbiamo ricevuto la volta scorsa per aver chiuso il boss E di andare direttamente a combattere Però prima io direi di prendere la super arma questa qui Che anche se non fate caso al nome Infatti credo che i nomi siano leggermente bugati Infatti questa pozione si chiama Uovo Anche se Uovo non è perché se io la lancio Vedete che esplode Quindi abbiamo già fatto il primo l'altra volta Quindi direi di iniziare con il secondo Sistiamo un secondo all'inventario e poi iniziamo subito Perfetto Quindi direi di partire Più o meno lo starter è quello Se non fosse per i colori Quindi Luttiamo la cesta che si dovrebbe distruggere La porta era parecchio lontana dallo starter Rispetto a quella del dungeon precedente Però Ci sono sempre queste creature che per ora sono verdi Per ora non vedo pericoli Vedo soltanto scendere queste scale Il game mi pare abbastanza strano Un dungeon di cui non ci sono pericoli Ok Da quel che ho visto Le ampolle di esperienza non vengono trasportate nella lobby Quindi le perdiamo Quindi Io direi di riusarle Infatti per rimediare al bug dell'altra volta In cui Ho ucciso il boss Ho rifatto la mappa Per questo Avete visto che avevo 8 livelli Perché le pozioni Nel primo dungeon Le ho utilizzate Abbiamo trovato L'entrata al dungeon Credo sia questa Ok si La porta dell'angelo Vediamo Ok La sfida è la stessa Dobbiamo accettare 3 bandiere Per passare Alla prossima porta Proviamo la nuova arma Ok Diciamo Ho ricevuto un uovo Forse Aspetta Non voglio dire Se è solo per quest'arma Oppure se la faccio pure per questa Ok Forse per ogni kill che faccio Mi dà una pozione Direi Di Iniziare a collezionare le 3 bandiere Una l'ho già vista È lì sopra Ci vuole Un po' di parkour Ma nulla di che Ok Non so perché mi spamma il messaggio Lo capisco Anche se me lo scrivi una sola volta L'altra invece è lì sopra Alla terza dovrebbe essere Ecco infatti Abbiamo preso la grigia E ora dovremo andare a prendere Quella Verde Credo Oh Ok Abbiamo male che non c'è danno Da caduta Mi hanno avvelenato? Era una strega? Oh Oh mio dio Ok Si vede che il dungeon Si è fatto più difficile Ci sono parecchi zombie Ora Devo un secondo camperarmi Da qualche parte Per mettermi le 3 bandiere Nell'inventario E poi Metterle al centro In modo da poter passare Alla prossima porta Oddio Mi hanno dato nemmeno Un secondo libera Ok Velocemente Perfetto Ci sono Stintardo verde Qua Lime E poi Perfetto La porta Si è aperta Ok Un adoro Pozione di danno Speriamo di unfelare Come un'altra volta Che se vi ricordate La pozione di danno L'ho buttata troppo presto E non ha colpito Per niente Il boss Anche se è possibile E' abbastanza facile Ucciderlo in realtà C'è lui E' abbastanza forte Credo che da qui Ce la faccio A lanciargli una pozione Perfetto Io siamo un pillager Ma non ne sono abbastanza sicuro Non vorrei sbagliare Quindi non mi Non mi esprimo C'è una Una chest Pro Ah ok Prendiamoci il loot Danno Credo Regenerazione Continuiamo Sperando di non incontrare Altri pillager Come si chiamano Se sbagliano Ammi ragazzi Non mi uccide Quello che mi spaventa E' Il boss Perché Già Quei Cosi piccoli Normalmente Fanno davvero schifo Figuriamoci Se sono Enormi Eccolo C'è un altro pillager Ce l'abbiamo fatta Oh Dio 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 Uno Due Il mago mi piace E' molto forte Soprattutto perché riesce ad attaccare da lontano Ehm Almeno Di mania metallica Ok Mi butto altre pozioni Dobbiamo risolvere tre puzzle Per passare la prossima porta Ai 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 Mi sa questo video sarà più lungo del solito Non sono bravo nei puzzle Io devo aver completato il primo Credo Dico credo Ok Eh ho completato uno Cosa succede Oddio no Perché Ehm Ah ok Credo che dopo aver completato il primo Iniziano ad apparire zombie Ho completato anche il secondo Credo Stiamo Perfetto Ora dovrebbero spavere altri zombie Si Infatti Iniziamo con il terzo E' anche l'ultimo Finalmente ho completato anche il terzo Quindi direi che possiamo passare al prossimo Mi aspetto altri zombie No Perfetto E' un labirinto Quindi dobbiamo uscire dal labirinto Per trovare La via Vediamo se riesco Uno Due Tre E direi che è il momento giusto per bere una porzione di rapidità E passare Al labirinto Sto parlando di uscirci il più presto possibile Una chest Beh Non è proprio quello che volevamo Però Diciamo che ci si accontenta Ok Perfetto Altre azioni Ok Trata una chest Uh Un totem della non morte Perfetto Potrebbe esserci utile più avanti Ma direi di Indossiarcelo Già adesso Anche se non credo che moriremo Un altro agito Per arrivare al boss Forse siamo nella strada giusta La rapidità ci sta finendo Quindi potremo anche più lenti Siamo arrivati C'è un pillager Che difende Ma Siamo usciti dal labirinto Finalmente Direi E passiamo al Un'altra Credo che sia l'ultima porta Per il boss Il trattamento che ho detto così Non è stato così Oh sì Eccolo qui Abbiamo il boss Di mangiarci una Oh mio dio Oh Ho sbagliato Pozione Diamine Ok 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 Mi sono andato una pozione Di forza Mangio Un apple Oh no Non ci voleva proprio Ok Diciamo che corro via Sì Grazie 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 Spawnano anche mostri Bene Fazzotto Ok 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 Ce la posso fare Ce la posso fare Più difficile Vedo che è più difficile Ma Ok Sono abbastanza fiducioso Che ce la posso fare Senza morire nemmeno una volta Ah no però Io non contavo gli zombie Ci sono un sacco Un sacco di mob A dire la verità Ok 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 Molto più difficile C'è stato un salto Di difficoltà Davvero enorme Dal primo Dal primo boss Davvero Ok Andiamo se usciamo ad ammazzarlo Più che altro Non è il boss Non è il boss Che è forte Ma sono i mostri Attorno a lui Che lo rendono davvero Fortissimo Più che altro Perché gli fanno da scudo Ecco Ok diciamo che Visto che il boss Mi pare anche uno Il più veloce Dei mob Da questi Io direi di correre All'indietro E farci seguire dal boss Poi nel caso Sto facendo una cazzata Però Ok Avveniamo il boss Insieme ai mob Alla giù è tutto Non so se mi da sempre L'uovo Perché a volte Noto che non me lo da Ok Ora ci andiamo Ci andiamo di violenza Sì Perfetto Abbiamo ucciso il boss Abbiamo ucciso 10 livelli Quindi possiamo sbloccare Un'altra classe Se non sbaglio Abbiamo 28 livelli di esperienza Bene Siamo tornati con un bottino Abbastanza succoso Torniamo alla lobby Vediamo quale classe sbloccare Per il prossimo video Mettendo la testa Che Oh mio dio Cos'è Mi sa che non la tengo Abbastanza bella Andiamoci A scegliere Una nuova classe Io direi Di usare Il fisherman Di cui Traduzione in italiano Adesso mi sfugge Mi piace il suo kit Motore di diamante Con il Con il Come si chiama Il tridente Se non sbaglio Giusto Mi piace il cappello Che Abbastanza Bello Diciamo che si Trasce Ah l'arma è ritornata qui Perfetto Quindi non perde durabilità Abbiamo la seconda arma Ovviamente il nome Ignoratelo Però abbiamo la seconda arma L'autoremo nel prossimo Per uccidere il prossimo boss E abbiamo anche il secondo mantello Che adesso Indosseremo Ok Perfetto Abbiamo il secondo mantello Il prossimo boss Che ci tocca Il ragno Di miele Credo Sì questo è miele Lo affronteremo Con questo set Che state guardando E con il nostro Nuovo bellissimo mantello E la bellissima testa O cappello Che abbiamo Non so cosa sia in realtà Quindi ragazzi Se vi è già posto Anderci qui Lasciate un like Comentate Io sono già fatto Ditevi un salve Se vi piace Da Loki È tutto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti